Ristorante da bravo? Ma che diavolo di nome è? Sono già pronto a licenziarli tutti Non sanno neanche con chi avranno a che fare stasera Un critico pulinario del mio stampo Per loro è come il diavolo in persona Abbiate paura, miei cari, abbiate paura Salve Allora, mi dica, cosa vuoi ordinare? Salve Io vorrei un po' di bistecca, ecco La carne la preferisce al sangue o senza sangue? Al sangue, credo L'ordinazione arriverà fra qualche ora Come sarebbe a dire fra qualche ora? Sì, perché prima c'è un'inghia di più importante Il matemathe Ma che diavolo? E per primo un occhio di bue L'occhio di bue abbiamo finito Perché ci sono morti tutti quanti i buoi E quindi non abbiamo più occhi da dargli Perché avevamo nutriti male, ecco sì Però se vuole, in compenso, può avere il mio Tanto voglio dire Con quello che mi pagano posso ricomprarmelo di vetro Ma che diavolo? Ma che... Ecco lei, il tuo occhio Oddio, oddio Madonna, li odio tutti qui dentro Tutti, mi travesse tutti sul cazzo Li farò chiudere Li farò arrestare Li farò denunciare Avete capito? Vi licencerò tutti Allora ragazzi, ci sono un sacco di indirizzazioni Prima di tutto assicuratevi che la padella sia, come dire, a buon uso, ecco sì Ah, sì, è molto a buon uso Che caffè vuole? Se lo vuole, eh, ostere a farmi Perché a me, io nessuno, insomma, lo stringio Io non costringio nessuno Sì, certo, facciamo un caffè corretto, va bene, vai Allora ragazzi, un caffè corretto Te, metti a fare il caffè in modo sbagliato E poi dopo te lo devo reggere Signor proprietario, sono stufo di questo ristorante Sono veramente stufo Domani vi farò licenziare tutti, vi farò chiudere Cioè Si può sapere come fate a lavorare con una persona così? Ah, sai, 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 sai Oh, oh, oh No, critico, non se ne vada No, ascolti, critico, per favore, per favore, no, davvero Però è bravo, eh, bravo, 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 bravo Bel lavoro, bravo, eh Perché ti devi sempre perdere Te, te sei così bravo Ti devi sempre perdere in un bicchier d'acqua, madonna Eh, ma che, che, che... Aiuto, aiutatemi, sto fogando, aiuto Ehm 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 Grazie a tutti.